buonasera a tutti cari youtubers e benvenuti nel mio nuovo gameplay oggi è domenica 2 novembre 2014 e sono le 5 e mezza di sera allora volevo farvi vedere un nuovo video sul tomodachi live perché con nintendo più che non ci gioco più tanto e allora aspettate un attimo si non sarà bellissimo però vabbè spero comunque che vi piaccia comunque stavo dicendo che faccio un nuovo video di tomodachi live perché non ho più tanta voglia di giocare nintendo più che penso che poi ho poco tempo per giocarci e quindi anche in questi due giorni di vacanza ho avuto poco tempo e comunque mi piace di più per ora tomodachi live vabbè andiamo nel gioco e oggi voglio farvi vedere una novità guardate andiamo giù oh oh cuore desiree la mia amica desiree andiamo a vedere che cosa no aspetta giù ha solo bisogno di rimanere sola è innamorata uh lu che è un figlio non esiste neanche va bene ti aiuto io allora come facciamo ragazzi io direi una canzone troppo figo allora diglielo una canzone in classe si facciamo in classe visto che alla metà ma no sei stupenda così facciamo così vediamo se funziona ragazzi e comunque non vi farò vedere solo questo e farò è quello vestito da fantasma un po' stonata sei la persona più bella che ci sia io ho solito il testo di geografia io ho composta per te spero che ti sia piaciuta ma sempre ne fai ha funzionato raga ovviamente è felice e vai diamone un oggetto il testo per ristorgerla per ecco delle maracas così può festeggiare comunque vi faccio vedere un attimo su ok perfetto e qui abbiamo fatto vediamo riz cosa vuole ok allora la frase deve dire quando sei felice tra la la tra no dove è dove è tra la la bene ecco questo tra la la tra la la perfetto perfetto ok poi lui dopo vi faccio vedere le cose nuove e dopo abbiamo finito no eh ma vai che ho imparato da poco questo sistema per fare video dai un'occhiata ok vediamo non ha niente nello stomaco perfetto 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 lei è Giuseppina ci sono un paio di personaggi nuovi che ora ve li presento ho tolto Lucia perché non mi andava più di averla anche lei perfetto perfetto allora i personaggi nuovi sono lui lui è Max Max Cavallari dei picchi d'India visto che l'ho anche conosciuto l'ho aggiunto vabbè non ci assomiglia tanto ma è difficile farlo uguale quindi sapete che quella lì è Max dei picchi d'India un comico che io ho conosciuto a Gardner domenica scorsa e mamma mia no emozione pura emozione pura altro che attrezioni vabbè mio papà poi che ho di nuovo aspettate vabbè Leo un figlio Yuki Giuseppina vabbè Paola Lu Sophie Harry un altro nuovo e basta ok visto che sono già sette minuti prima facciamo un evento il primo oggetto è un chiotto una vite scusate mi leggo io vabbè lo lascio palla da bowling niente male nuovo oggetto e questo che non è nuovo che sono le crocchette vabbè poi vediamo le offerte che vanno fatte di mattina vabbè ma lo prendo ora in mano non ci ho mai giocato oggi ma ieri si vabbè alla fine vanno le offerte e la montare e la montare monta a 212 e 40 perfetto i vestiti vabbè abbiamo cardigan bello vabbè pilota prendiamo io lo prenderei verde è più chic vabbè il grembiulino vediamo invece le volte di capelli e cibo uffo no che figata raga no zoom ah che figata guardate con l'ufo no questo lo devo prendere ok zoom dice un oggetto volante non identificato la terra sulla tua testa no figo orecchio dal gatto bianco no somigliano quelle che aveva messo la sala per luca comics no bianco assolutamente e anche no bianco e casco vabbè prendiamolo chic rosa però raga ok buono cotto in forno fino alla doratura perfetto accompagnato per il tè e basta non c'è niente di nuovo ok vediamo 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 che cosa succede in una park guardate le montagne russe le magic montagne vabbè le magic montagne non sono proprio così perché alla prima discesa hanno subito il doppio giro della morte però si facciamo che queste siano le magic montagne e questo è gardaland fate finta che questo parco di divertimenti sia gardaland lol magic montagne arrivo vediamo il notiziario e dopo fine e vai mi tu scioccante massimiliano max perché il suo vero nome è massimiliano però il suo nome d'arte è max è conosciuto come max e basta vabbè qui abbiamo finito non vi faccio vedere altro basta perché non c'è più niente basta sì allora il video termina qui io vi do appuntamento al prossimo video se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi se siete nuovi e commentate commentate facendomi anche delle domande se volete e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti